Sono numerose le novità sulle pensioni inserite nella nuova legge di stabilità. CGL, CISL e UIL le hanno illustrate a Torino in un attivo dei lavoratori. Il servizio. Devo dire che questa vicenda invece dice chiaramente al Paese che per trovare le soluzioni giuste sulle grandi questioni aperte bisogna confrontarsi con tutti, fermo restando che poi ognuno assume le sue decisioni e prende la sua responsabilità. Partiamo dal commento finale dei sindacati alle decisioni del governo in materia di previdenza. A Torino CGL, CISL e UIL del Piemonte hanno voluto condividere con una platea di quadri e dirigenti sindacali i risultati di un lungo negoziato con Palazzo Chigi. Dalla 14esima mensilità la ricongiunzione gratuita per chi somma più enti previdenziali ha la possibilità di andare anticipatamente in pensione, in sintesi la chiusura di una dura stagione. Dopo tanti anni in cui i pensionati venivano utilizzati come una sorta di bancomat si restituisce qualcosa soprattutto ai più bisognosi. E questo per noi è un traguardo importante perché i pensionati in tutti questi anni sono stati il vero ammortizzatore sociale che ha funzionato durante la crisi. Ma restano alcune zone d'ombra e sindacati in particolare mettono nel mirino l'ape social. Così denominata è una novità che offre l'accesso alla pensione con redditi bassi. Ma i requisiti sono ancora molto stretti e penalizzano quanti non hanno continuità retributiva. Ci sono alcune categorie di lavoratori come quelli dell'edilizia che hanno una discontinuità lavorativa molto ampia per la tipologia di lavoro e questo impedisce a loro di accedere all'ape social.